Dai, dalle ronè, con cui con il bianco, dai picciota, lei è tutto convicchiato. Bravissimi, bravi, bravi. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. 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 Il arresto è un evento molto importante. Ovviamente, Matteo Messina-Denaro è il giocatore dei segreti fondamentali in una cosa molto delicata. Quindi, ora dobbiamo considerare, e questa è la domanda principale, cosa succedereà? Ciò sceglieremo con la autorità giudizia o non? Grazie. 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 Grazie.